quindi non sono certo questi 5 minuti in più anzi vi ringrazio io per la partecipazione finisce che si va a votare e che PD ha una grande occasione di guidare una coalizione che va a vincere le elezioni vediamo cosa succede questo tema della Lega da sola potrebbe aprire anche la partita al nord da cui vi parlo e mi piacerebbe anche capire se finalmente si può cambiare la maggioranza anche da queste parti grazie